Grazie Presidente. Bene la intenzione. Le forze di polizia locale di Roma Capitale, come è stato già detto, hanno i loro numeri, hanno le loro difficoltà. Sicuramente non bastano però per portare avanti questo tipo di iniziativa. Ovviamente serve la collaborazione a livello ministeriale per poter intensificare ed intervenire in maniera più puntuale, più pesante all'interno dei campi Rom quando si tratta di questo tipo di reati. Ovviamente la polizia locale fa il suo presidio ma poi non può bastare la sua presenza. Quindi sicuramente noi ci siamo attivati, ci continuiamo ad attivare presso le competenti sedi affinché Roma abbia un supporto maggiore da parte delle forze dell'ordine. Comunque consegniamo in questo caso, proprio perché è un lavoro che vogliamo anche noi portare avanti, però dobbiamo portare oggi. Non possiamo chiedere tutto questo alla polizia locale perché sappiamo quali sono le competenze e non riescono da soli a far fronte a questo tipo di fenomeni molto pesanti. Pertanto dobbiamo consegnare un voto di astenzione pur condividendo l'iniziativa.